Io mi metto in gioco, io vado in giro per Milano a testa alta, faccio politica perché ci credo, la faccio da quando ho 17 anni, se non mi rieleggeranno tornerò a fare il mio lavoro e magari avrò più tempo, ma io la gente la guardo negli occhi, non prendo sputi, non prendo insulti e non accetto che la politica è tutto uno schifo. Perché se anche stasera dobbiamo dire che la politica è tutto uno schifo, sono tutti ladri, sono tutti dei falliti, sono tutti dei mangioni, è inutile. C'è il politico ladro e c'è il politico fallito, c'è il taxista che farà ricevuto e c'è il taxista che non farà ricevuto. Quindi programmi, la parola magica è programmi, non con il tutto bello, i giovani. Provo a tradurre un attimo, provo a tradurre però quei ladri, perché voi giustamente, voi politici venite qui e dice ma non tutti sono ladrie, però tutti avete... Non dico voi giornalisti, voi in bianchini... No, però attenzione, voi politici avete un accesso ad un portafoglio illimitato, cioè avete dei fondi che gli imprenditori, che gli studenti, che le famiglie non hanno. Cioè il problema di fondo è questo. Dipende da quale usi? No, no, sono tanti comunque. Scusa, allora, i numeri... Fatemi dire una cosa, scusate, una cosa su Salvini però, non ho capito se Salvini si presenta da solo o è ancora dentro la Lega, perché la Lega non è stata capace di gestire i propri soldi, ha messo tutto fuori a gestire i soldi. No, 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 non ci mettete le cubiste, ci mettete le cubiste, ci mettete, allora, attento bene prima la metà della Lega, dalle stelle, alle stalle. Silenzio Salvini, la domanda era chiarissima. Se posso rispondere, se noi domani chiudiamo tutta la politica... Calgiti per il sito! Calgiti per il sito! Allora, stai tranquillo, fai calma, andati figli a te. Sì, intanto abbiamo parlato a figli.